e qui coi pesi non dobbiamo mica scherzare comunque c'è arriva lui 80 83 allora nome e cognome in camera yurabushka ha guardato dalla parte giusta sto giro raramente riconoscono molto le carte quando te lo diciamo noi sali sul terzo gradino puntali per il fuori e bracciali 3 2 1 un bel passo di testo non tocchi nulla per i primi due rimbalzi dopodiché prendi questa corda qua ed è un bel tirone che si stacchi da lì e poi inizia a tirarti su fin quando arrivi a trovarti a destra in alto e tutte e due le mani qua ok noi nel frattempo ti caliamo fin dove trovi un ragazzo che ti passa una corda con un aperto tu con una mano ti tieni sempre qua con l'altro prendi la corda proprio lui ti tira arriva ti temi l'imbraco e ti spiega bene con nessuno ok allora vieni sul tappeto verde tieni qua con una mano e aspetto lui non ti muovere ok lascia pure qualcosa da dichiarare? il problema non è la caduta e l'atterraggio lo so siamo arrivati alla sostanza del problema se la vuoi puoi andare voglio voglio ma sei sicuro te di voler saltare? sto cazzo guarda ma che altro? che cugno dio ok braccia aperte braccia aperte 3 2 1 via porca madonna 4 ADVERMARA 4 ANNO PERMCHESTO FOMTop 4 1 ACMI Grazie a tutti.